La rivitalizzazione del centro storico dell'Aquila passa attraverso il recupero delle piazze e degli spazi comuni del centro. Dopo il sisma del 2009 siamo tutti concentrati sul recupero del patrimonio edilizio, in particolare dei palazzi storici, ma è arrivato il momento di riprogettare gli spazi urbani, piazze, giardini e parchi. È la proposta lanciata da Giuseppe Cimmino, segretario del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila, nell'ambito della seconda giornata nazionale del paesaggio, organizzata dal MIBAC, che ha avuto come tema centrale paesaggi condivisi, tutela e valorizzazione. Un appuntamento che ha visto protagonista con una serie di iniziative l'Ordine Provinciale degli Architetti, in collaborazione con la Sovrintendenza e Beni Archeologici e Paesaggistici. Rischiamo, il monito lanciato da Cimmino, di restituire alla città palazzi bellissimi, ma non i luoghi della socializzazione. Come Architetti proponiamo una forte sinergia con il Comune, gli altri ordini professionali, la Sovrintendenza, i privati e la cittadinanza, per elaborare dei progetti e dei concorsi di idee finalizzati alla riqualificazione degli spazi urbani comuni, con particolare riferimento alle piazze, che fino ad oggi sono stati oggetto di utilizzo ausiliare ai cantieri per il posizionamento delle grue, del carrabile e l'approvvigionamento di materiali edili. Quando riscopriamo, restituendo dagli Aquilani le bellissime facciate dei palazzi storici, che hanno una valenza architettonica indiscussa, le stesse affacciano su spazi dismessi, da riqualificare, spesso degradati, ed è su questo, conclude Cimmino, che dobbiamo lavorare per restituire decoro anche agli spazi pubblici dell'Aquila, in particolare il Centro Storico, proposte che si legano a doppio filo con la nuova campagna Paesaggi Condivisi 2018, che ha visto la partecipazione dell'Ordine degli Architetti e della Sovrintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Aquila, con il seminario Paesaggio, Tutela e Valorizzazione, una riflessione comune sul complesso tema del paesaggio, intesa come salvaguardia e protezione, in un'ottica di partecipazione sul territorio aquilano del catere sismico del 2009.